Ehi salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del vostro MaxiGamer83 Oggi come possiamo vedere dalla schermata iniziale ma già dal titolo e dalla miniatura Possiamo vedere che stiamo giocando a Construction Simulator Abbiamo 2 ore di prova, se piace possiamo fare anche un secondo episodio volendo Con il tempo che ci rimane Ma detto tutto questo perché stiamo anche sprecando tempo Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, a commentare e a visitare la descrizione Con questo gioco Allora, crea un nuovo profilo per dare il via alla tua carriera Allora, scegliamo personaggio, aspetto nome Allora, personaggio, 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 non ci sta niente Allora, mettiamoci uno che più ci sa dice Mettiamo questo Aspetto Colore di base Inserisci il codice, non mi interessa Giallo Nome giocatore Eh, che ci mettiamo Arduino Dai, no, anzi, no, no, Arduino Eh, che ne so, che nome ci potremmo mettere Enzuccio, ecco, Enzuccio 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 Enzuccio, calcio e struzzo Enzuccio, calcio e struzzo Ecco qua Ecco qua Enzuccio, calcio e struzzo Accetta Ecco qua E torniamo all'aspetto Vabbè Inizia la tua prima partita Vai Crea una nuova impresa Ovviamente in Europa Scegli il logo per l'impresa La sega Nome impresa Che ne so Segaticcio T Cio Segaticcio SRL E ne so Così Ecco qua Inizia la prima partita Allora Un inizio incerto Sei a un punto morto Nella tua vita Eh, non giolla bar Stai riflettendo Sul futuro Quando il destino Busso alla tua porta Aspettate Il telefono Il telefono squilla Prondo Prondo Nel cuore della notte E Ape Amico di famiglia Di una lunga data Scritta E titolare di una ditta Di costruzioni del posto C'è un E Dice C'è un brutto temporale E ha bisogno Del tuo aiuto Ancora non sai Quando questa notte Ti impe- Tem- Questa Eh, porco Due Questa notte Ti tempesta Cambierà il corso Della tua vita Appa dai Non ti fa male Patam Oh, già, 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 già Parlo con Ape Ah, finalmente There you are I hope you haven't forgotten me Well, if you want me to jog your memory It's me, Hoppe I always knew you'd become a real construction ace someday Now is your chance to prove it Because I urgently need your help So let's get moving There was a bad storm last night And it left a ton of damage in its path There's been a landslide at the bridge Coming into the village It also knocked down a utility pole And many parts of the village lost power We have to get over there and clear the road We'll need a wheel loader Which I have to pick up It's best if you get behind the wheel of the flatbed truck And drive ahead Just follow the GPS to the meeting point Ok, dai, andiamo Allora, dove sta il camion col pianale? Eccolo qua Se andando Vada Ai, pero no Questa Poi Vai Se va, se va, se va, se va Oh Madoo Madoo Ok andiamo qua Ragazzi mi sarebbe embarcato il camion in una maniera impressionante Ah questo Come si fa scendere? I materiali e le sfusi Non mi interessa Come si fa scendere? Come si fa scendere? Ah ok Dove accendere il generatore Va bene Devo andare sopra la pala gommata Allora Questo è molto da farming Allora che pala gommata abbiamo? La cat 950m Bella mestica Mistica Ehm Macchini corrispondenti Ok Mi interessa il gas Ah ok ma ho invertito i tasti Allora A me mi serve che mi abbia cambiato il visual Allora quadrato Allora 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 Cut Allora 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 Vabbè più o meno E i primi danni li abbiamo fatti Allora Avviciniamoci Scarichiamo Ah ma io al lago devo scaricare la terra Io sto perdendo il piano Va fuori No 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 sta bene in l'avatar allora una gran quantità di terra di terra è finita in strada, trasportala dalla pioggia e ci anche un po' allora puliamoci un po' per terra ok dimmi tutto parla con Ape Apecar eh, beh, più o meno a posto, grazie, grazie eh, guardatella che lavoro raga, che lavoro saliamo bam, 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 bam vai raga pure nella sede principale stiamo ma no per passare la modalità operativa ok 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 aiuto allora 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 quindi dobbiamo andare andiamo qua sali ah poi intanto lo so com'è fungione non 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 forse ho preso un bo tac alza alza battuta vai a posto sali su schiena alla pianale oh appos vabbò a a a a a a a vieni qui hopla ah poi salta tanto lo so come ha fatto un muletto salta tanto lo so come vabbè raga comunque dai ci sta ci sta apriamo le sponde vai 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 Grazie. Così, tac. Eh, vabbè. Beh, raga, nel prossimo episodio finiamo a caricare questo, aggiustiamo se piace, ovviamente, se no me lo gioco io da solo. E nel prossimo episodio andremo pure a vedere come possiamo fare. Dobbiamo avere giusto la casa. Ah, beh, dai. Nel prossimo episodio il vostro MaxiMera83 faremo questo. Adesso, purtroppo, il tempo è scaduto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.